Proteggiamo la natura, custodiamo ciò di cui più prezioso siamo in possesso e facciamolo con fili d'oro come quelli che l'artista catanese di fama internazionale Claudio Arezzo di Trifiletti ha stamani cominciato a dipingere sui tronchi degli arbusti di Piazza Verga. Un grido di dolore per questa città ci spiega stamani che viene sempre decantata per i suoi numeri in merito ai flussi turistici ma che non esprime un senso di civiltà, troppo decadimento la bellezza si crea con le piccole cose Catania e nella cula del Mediterraneo Piazza Verga piange, condizioni di abbandono totale. Quando entro in questo spazio perché è uno spazio sento quasi e mi viene la pelle d'oca la voce di Carmelo Mendola che fu un noto artista catanese che per la sua terra lui mi sta, credetemi venendo la pelle d'oca perché sento che lo spirito di questo galantuomo risiede ancora in questa piazza, scolpì la fontana in omaggio e malavoglia. Ora purtroppo la fontana è senza acqua quindi secondo me un grandissimo bel lavoro però vedo le fontane senza acqua, si parla parecchio di turismo, si parla parecchio di una città che si sta espandendo, però secondo me se vogliamo parlare di turismo dovremmo parlare fondamentalmente di civiltà perché se noi ospitiamo islandesi, svedesi e insomma questa città non rispecchia molta civiltà partendo dalle fontane senza acqua, l'acqua non dimentichiamoci che fondamentalmente è il simbolo di vita. C'è tanta rabbia guardando questi cerchi d'oro, questi fili dorati che proteggono gli alberi di Piazza Verga a Catania? La rabbia forse va alchimizzata, è trasformata in qualcosa che l'arte vuole comunicare perché l'arte fondamentalmente serve a comunicare. Questi cerchi rappresentano un filo molto sottile a cui tutti noi siamo collegati, connessi, gli alberi, gli alberi rappresentano molte cose ma fondamentalmente è la vita su questo pianeta che va rispettata e soprattutto va rimpiantata. Questa terra ha davvero bisogno di molti ma molti alberi e gli alberi che ci sono non solo rappresentano la vita su questo pianeta ma devono essere protetti anche divinizzati. Con questi cerchi io gli ho voluto rendere omaggio, tutti noi siamo abituati ad abbellirci, un albero non ha bisogno perché un albero è bellissimo dalla testa ai piedi ma questo cerchio ho desiderato dargli ancora più regalità che quando una persona ci passa davanti non passa sotto un comune albero perché non esiste un comune albero ogni albero è speciale e una mia percezione è che se noi osserviamo la natura, la natura se ne rende conto e c'è grata, è tutta attorno a noi se noi prestiamo attenzione si apre un mondo magico perché gli alberi ascoltano, sentono e noi dobbiamo entrare in connessione con la natura che ci protegge.